un pareggio quello dello stadio adriatico che premia molto più in fatto di fortuna i padroni di casa in quanto l'avellino ha meritato qualcosa di più del pareggio e cordova alla mezz'ora che tira fuori bersaglio poi al 37esimo il centravanti silva del pescara a impegnare piotti sarà ancora piotti protagonista su un bel tiro di punizione di nobili al 44esimo arriva il gol degli abruzzesi e cinquetti a mettere in rete da due metri su una punizione di nobili toccata da restanti infine il capolavoro di cordova che in una solo dribbla tutta la difesa abruzzese e conclude in rete grazie grazie